Sorrossa e Monte è il nome dell'associazione stasera ospite che arriva da questa località. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo, de suballu, torrau, fonni. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Salvatore Loi detterà i ritmi e i tempi del ballo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.